Mancanza di materiale umano, infermieri nel caso specifico, poche sale chirurgiche a disposizione con conseguente riduzione delle ore di lavoro. Tra l'altro a Chieti sono aperte quotidianamente due sale operatorie, 11 a Pescara. Questo hanno lamentato ieri i direttori di dipartimento dei reparti dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti nella seduta del comitato ristretto dei sindaci. Per cui con un numero di sale operatorie maggiori e un numero maggiore di infermieri, di personale di sala chirurgica, si abbatterebbero le liste di attesa e soprattutto diminuirebbe di molto quella che è definita mobilità passiva. Tra l'altro il rettore dell'Università d'Annunzio, Liborio Stupia, ha sottolineato che procedendo di questo passo nel 2027 l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca potrebbe far chiudere l'Università di Chieti. Non possiamo rescedere di un passo e ammettere che il nostro ospedale policlinico possa essere declassato o addirittura cancellato dalla mappa delle eccellenze perché la facoltà di medicina ci venga o ci possa essere tolta. Non lo permetteremo mai. Il sindaco Ferrara poi tiene a stemperare il clima pesante che si è creato in questa occasione con il manager della locale ASL, Thomas Schelle. Ovviamente partiamo da un principio che le critiche costruttive a un miglioramento del servizio, in questo caso di un servizio essenziale e importantissimo come quello della sanità in una città capoluogo ma non solo nella città capoluogo ma in tutta la provincia è di un'importanza fondamentale non fosse altro perché la salute è al primo posto degli obiettivi di uno Stato e anche di un ente locale degno di questo nome.